Qual è l'investimento iniziale reale che un franchisee deve sostenere? C'è trasparenza su questo aspetto? Per noi la trasparenza è fondamentale, infatti si entra nei nostri percorsi solo dopo aver chiarito quali sono le aspettative del cliente, quindi l'investimento viene sempre sottorato in relazione a quello che è la resa che poi l'affiliato vuole ottenere, cioè quanto vuole portare a casa, se vuole portare a casa uno stipendio più una rendita da parte del progetto, se sono più soci, qual è nel caso in cui sono per soci, per statoli d'opera, lo stipendio base che vogliono portare a casa, più qual è la prospettiva in proiezione a 12 mesi di quello che potrebbe essere la rendita del punto play zone o virtual play in questo caso. Quindi c'è sempre una chiarezza su quelle che sono le aspettative in funzione poi dell'investimento, quindi si va subito a capire che l'investimento è strutturale in relazione a quello che è l'effetto finale. Quindi sia royalty zero, noi non abbiamo royalties sull'incasso in nessuno dei nostri progetti, almeno per il momento e almeno per tutti il 2024, quindi significa che chi entrerà fino a dicembre 2024 non avrà royalties sull'incasso per tutti i sei anni successivi. Nel 2025 ancora stiamo vedendo cosa succederà, ma per il momento quindi garantiamo questo, c'è quindi trasparenza su quelle che sono le finalità del progetto, quindi a cosa si va incontro, cosa si otterrà e soprattutto anche quella che è la fila ingresso. La fila ingresso per noi è semplicemente una somma che effettivamente danno una tantum gli affiliati quando entrano al nostro percorso, ma lo facciamo fare come modalità impegno, cioè vogliamo capire se veramente ci vogliono mettere un impegno e l'impegno ce lo devono dimostrare con qualcosa che chiaramente un po' gli brucia, quello della parte economica, quindi tirando fuori una piccola somma o grande, un po' più grande, a seconda chiaramente del progetto che vogliono andare a realizzare, evidentemente c'è un impegno che ci dimostreranno, quindi se facciamo un progetto piccolo sul locale per esempio a partire da 250 metri quadrati, la fila ingresso può essere anche di 2500 euro e si paga ripeto solamente un anno, se invece facciamo un progetto grande anche di 1200 metri quadrati, 2000 metri quadrati, la fila ingresso può arrivare anche a 10.000 euro, cosa c'è all'interno di questa cifra e quando si paga? L'ho detto prima, è una tantum, una volta e poi servizi integrati, gratuiti per 6 anni, quello che c'è dentro veramente tanto, cioè noi diamo forse almeno 10 volte quello che ci danno all'inizio, perché comunque è un servizio perpetuato per 6 anni, pensiamo alla formazione online prima di venire, c'è tutto un pacco di materiali che inviamo, che devono studiare, oltre a gadget, materiali vari eccetera, che servono appunto per far entrare già la persona all'interno dei nostri circuiti. C'è la possibilità di partecipare alla nostra masterclass di 4 giorni all inclusive, quindi ristoranti, feste, insomma tutto compreso, ma chiaramente tanta formazione oltre 8 ore al giorno in full immersion. Ci sono poi i corsi successivi, i libri, tutto gratuito, tutto maggio, software che diamo a disposizione, selezione del personale che facciamo online, formazione del personale, divise, diamo l'utilizzo dei nostri executive manager, cioè quelli che poi accompagnano dalla fase dell'apertura alle fasi successive, marketing incluso, sia prima che durante l'apertura, e poi tutto quello che è l'evento inaugurale, tutta quella che è la parte mediatica, comunicazione, quindi registrazioni di video, formazione su quella che è la modalità di editing per realizzare contenuti sulle varie piattaforme. Quindi io direi veramente tanto tanto, è il momento, sono sicuro anche quando adesso sto registrando, che non c'è nessuno in grado di poter fare quello che facciamo noi. Grazie.